Abbiamo capito che sviluppo e legalità non possono dividersi. Infatti, sono strettamente connesse perché ci sono tanti elementi che giocano, a prescindere dai profili etici, ma da un punto di vista strettamente economico. Certamente la legalità significa far sì che il mercato funzioni, che la concorrenza funzioni, che in realtà siano premiati gli operatori più efficienti e che quando questo entra in rapporto con la pubblica amministrazione significa ottenere prestazioni di qualità con ragioni economiche convenienti e quindi utilizzare bene le risorse dei contribuenti. Non abbassare continuamente il prezzo e quindi avere una base d'asta decente, questo è un po' quello che molti imprenditori vorrebbero, in modo da garantire comunque una qualità. Come si può ottenere? Beh, diciamo che molto dipende da settore a settori perché i bandi sono chiaramente calibrati rispetto ai settori di intervento. Qua c'è in gioco, da una parte, la professionalità delle pubbliche amministrazioni e quindi di coloro che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni definiscono i bandi di gara, anche se ormai ci sono bandi tipo, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici definisce bandi tipo che costituiscono per le stazioni appaltanti un orientamento importante. Peraltro la tendenza, ovvero possibile, ad accorpare le stazioni appaltanti, evitare la polverizzazione delle stazioni appaltanti perché non sempre la professionalità richiesta da questo settore può essere presente in tutte le piccole stazioni appaltanti. Poi c'è un aspetto, l'aspetto che diciamo molto spesso il prezzo più basso è una regola di cautela che evita che l'amministrazione possa rischiare con una valutazione più ampia che invece deve fare conto della qualità ma questo necessariamente non garantisce poi il risultato finale. E appunto non sempre il prezzo più basso poi è sinonimo di qualità e comunque il prezzo più basso forzato non dà i risultati voluti. Questo specialmente quando nell'ambito dell'esecuzione del contratto, diciamo, e questo per esempio vale specialmente nel caso dei lavori pubblici, quando nel corso dell'esecuzione ci possono essere elementi che inducono a chiedere riserve, a chiedere varianti, allora in qualche caso si può pensare che il ribasso iniziale sia una strategia dell'impresa per poi ottenere ex post le opportunità anche se chiaramente le opportunità di aumento dell'appalto. Però diciamoci la verità, in questo caso le regole ci sono e comunque fissano dei tetti ben precise alla rinegoziazione successiva e credo che sia importante l'assunzione di responsabilità nel senso di tenere conto che la pubblica amministrazione non deve semplicemente essere orientata ad adempiere ma che l'adempimento, quindi l'applicazione delle regole, deve essere finalizzata al risultato e quanto più un amministratore pubblico è valutato sul risultato, quanto più sarà orientato a perseguirlo. Un parere su questo forum, su questo appuntamento che ha riunito e messo a confronto più voci? Io credo che occasioni di questo tipo siano sicuramente importanti, tra l'altro il vostro settore è un settore che è economicamente rilevante, che riguarda una gran quantità di addetti e anche un giro di affari significativo. È importante per una ragione, perché è importante che problemi complessi vengano guardati da angoli visuali diversi. Molto spesso nel nostro paese ci può essere la tendenza a concentrarsi soltanto su alcuni profili che sono quelli per esempio del formalismo giuridico, far sentire voci che riguardano anche la consapevolezza delle problematiche economiche che sono coinvolte, della necessità che queste problematiche non rimangano soltanto per pochi addetti, ma che sia indispensabile una consapevolezza diffusa e quindi il ruolo che l'informazione può avere per i privati cittadini perché sono contribuenti, per le imprese perché sono interlocutori stabili della pubblica amministrazione. E diciamoci la verità, anche per chi all'interno delle amministrazioni deve svolgere un ruolo di orientamento, di indirizzo e di valutazione, credo che occasioni di questo tipo siano importanti perché consentono di mettere insieme i diversi aspetti di un problema complesso.